Collagene nasce innanzitutto dalla voglia di ricominciare dopo questo lungo momento di non tanto di silenzio quanto di inattività con l'obiettivo di essere un progetto di comunità non solo intesa a livello territoriale e geografico ma anche proprio di comunità artistica e di mettere in dialogo queste due comunità che poi è il motivo per cui abbiamo dato al progetto questo nome collagene con un termine rubato alla biologia il collagene appunto una proteina che noi il nostro corpo rilascia naturalmente per mantenere elastica la pelle i tessuti e l'analogia è che l'arte la cultura siano proteine fondamentali per mantenere elastica la mente il modo di pensare anche di agire collagene da bere una o due gocce all'occorrenza somministrazione sublinguale il vuoto di cultura genera nuove forme di schiavitù la cultura rende liberi ciao nicola ciao ciao a tutti facciamo questa piccola chiacchierata così per chi ci vuole ascoltare lo stesso artista che parlerà ci racconterà un po delle delle opere che sono qui che possiamo vedere sui muri preferisci nicola o ben inodo ma in questa veste ben inodo e da quando usi uno pseudonimo da un pochino di tempo saranno non so penso almeno quattro anni e sono ben inodo vengo da roma ma sono stato accolto nutrito e allattato da bologna qui sono diciamo artisticamente nato e cresciuto quindi mi muovo in varie tecniche in varie dimensioni dell'arte sono sia un performer sia un pittore illustratore gomma che è il titolo del progetto è il frutto di un laboratorio sperimentale di calcografia da elastico quindi tecnicamente la il progetto viene curato da lo stesso spazio della stessa associazione elastico stato il primo lavoro che siamo riusciti a rimetter su dopo tutto quanto l'esperienza del covid gomma è un progetto che parla di percezione percezione tra le distanze tra vicinanze reali o virtuali fa vedere dei ritratti di artisti con i quali ho avuto il piacere di collaborare nel corso di questi anni e che sono stati vicino anche i momenti di fermo totale come quelli del covid e con i quali anche sono riuscito ad avere dei confronti molto piacevoli diciamo di grande sostegno e quindi è quasi un omaggio alla alle loro figure quello mio omaggio personale ai loro visi i loro visi un po deturpati perché comunque abbiamo cercato di mescolare materiali non usuali nella calcografia quali gomma lattice sabbia e il risultato è quello che vedete l'operazione di gomma è proprio quella di presentare più fasi della stampa del processo di stampa cioè nel senso come a dare l'impressione di una percezione che si può accogliere in modo netto frammentata o labile e in base a questo le matrici sono ovviamente le stesse in base a questo ogni stampa cambia forma cambia espressione ho voluto portare anche paolina b perché è stato un momento molto cruciale nel lavoro proprio tra le percezioni paolina diciamo che è stato il punto di arrivo di questo percorso di questo studio parla proprio della difficoltà di riuscire a percepire la stessa identità rispetto al punto di vista in cui ci si posiziona il volto di paolina rimane sempre lo stesso perché è cucito al telaio mentre invece il suo corpo modifica e si trasforma rispetto a come ci si muove all'interno dello spazio che la circonda